Impianti sportivi di Como è attesa per la riqualificazione di palestre e campi da calcio Entro la fine di aprile andiamo a gara su via Spartaco e la via Acqua Nera Meroni di conseguenza il Paoli e il Meroni e con questo andiamo a chiudere due terzi del patto per la Lombardia che era ormai quelle robe che aleggiano, che non si concluderanno mai tipo i fondi cariboli che poi ti direi evocano quindi sono ben contento di procedere su questo aspetto Quali altri? Devo dirle che è tutto un fiorire di richieste e di proposte Via Giulini avevamo anche già dato una data forse Beh, via Giulini siamo in dirittura nel senso che io penso che il limite massimo di via Giulini è la variazione di bilancio per l'utilizzo delle risorse perché abbiamo corso come dei matti adesso mancava il diri per quanto riguarda l'impianto elettrico ma è già stato affidato l'incarico con la stima di massima allora arriveranno per via Giulini però mi ha distratto sui campi sportivi arriveranno per via Giulini prima l'aspetto del progetto definitivo di conseguenza dove mancano solo i soldi che non l'aspetto finanziario Il primo cittadino è inoltre dettato i tempi per la riapertura della palestra di via Giulini che potrebbe essere pronta per il mese di settembre l'impianto come noto necessita di una serie di lavori che a causa della scarsa manutenzione e dunque del deterioramento hanno visto un aumento dei costi nel caso di via Giulini si tratta della sistemazione di porte l'allargamento di alcuni passaggi e ancora la creazione di un alto accesso verso l'esterno e intanto al momento resta ancora in sospeso la riqualificazione e dunque l'apertura della piscina e del palazzetto di Mugeot l'impianto natatorio è chiuso dall'estate del 2019 mentre il vicino palazzetto dello sport con le porte sbarrate dal novembre del 2013 oramai è ridotto a urrudere sugli impianti sportivi dunque si dovrà attendere ancora e se ne riparlerà verosimilmente il prossimo autunno grazie a tutti